Già due giorni fa era stato Elio Calderini a chiedere il sostegno dei tifosi. In effetti la partita contro il Follonica Gavorrano è da bollino rosso, anzi amaranto. Non è un caso che la pesante battuta dal resto dell'andata abbia segnato l'inizio della crisi che poi lo stesso Mariotti ha pagato con l'esonero, forse troppo affrettato o ritardato dopo il pareggio interno con il Sandonato. Ma la verità è che lo stiaffone subito in Maremma cambiò gli equilibri e minò le certezze della squadra amaranto. Ecco che la partita di domenica potrebbe essere l'occasione vera per il rilancio, considerate le partite ancora da giocare. I maremani hanno un punto di vantaggio, tra l'altro vengono da una immeritata sconfitta contro il Sandonato e hanno la caratura giusta per venire a giocare la partita in modo aperto. Rispetto all'andata, la squadra di Bonura ha cambiato parecchi interpreti. Non ci sono più Tascini, Torvede, Rossini e Nannelli. In compenso sono arrivati sette giocatori, tra cui la punta Silla che Bonura ha avuto lo scorso anno a Trestina. E in dubbio Arduini, giocatore che all'andata finì nel tabellino. Occhio agli adetini Ombra e Grifoni e soprattutto all'ex Montevertino Giustarini, uno che sa come si vincono i campionati.